Ci troviamo a Salerno con noi Cessonia Bevilacqua, mamma di Francesco. Il problema principale nel suo caso è stato il rapporto con la scuola. Sì, Francesco ha iniziato la scuola media l'anno scorso e il passaggio non è stato molto facile in quanto noi puntavamo su una continuità del progetto, del percorso che lui aveva iniziato fin dalla materna. Noi genitori, noi associazioni siamo stati dei portatori di interesse e di risorse, sia economiche che fisiche, in quanto volevamo investire anche sul personale docente, specialmente quello che avrebbe seguito nostro figlio, per un migliore percorso alle medie. Proprio in funzione della continuità, perché i ragazzi con questa patologia hanno bisogno di una continuità nel loro percorso di vita e nei vari ambienti. La difficoltà è stata di comprendere l'importanza di cooperare insieme a tante figure, non solo degli insegnanti di classe, ma anche degli esperti e soprattutto la collaborazione con la famiglia. Parliamo di cose che in effetti, di attività, di interventi che in effetti sono scritte neri su bianco, quindi non sono cose inventate né da noi genitori, né da noi comunità di genitori, ma dove appunto sono percorsi legati a una evidenza scientifica e anche legislativa. Abbiamo creduto tantissimo in questo percorso, quindi per noi era molto importante, nonostante l'alto funzionamento di nostro figlio, avere fiducia nella continuità del percorso. Mi dispiace di aver trovato un ambiente, una comunità scolastica, specialmente quella di mio figlio, non molto disponibile, ma con delle difficoltà nella comunicazione e nell'applicazione di alcuni interventi che erano semplicemente facilmente applicabili e bastava mettersi d'accordo insieme.